Secondo le ultime anticipazioni di Uomini e Donne nel corso della nuova registrazione Federico Nicotera non ha ancora scelto. Maria De Filippi ha fatto sapere in studio che il tronista farà finalmente la sua tanto attesa scelta durante la prossima settimana. Questo ciò che riporta in queste ore sul suo profilo Instagram Lorenzo Pugnaloni. Non c'è, al momento, una data precisa. Ciò che si sa è che domani ci sarà un'altra registrazione. Ma sembra molto più probabile che ci sia qualche giorno di stacco da quanto accaduto oggi. Maria ha rivelato che Federico, dopo la scorsa registrazione, ha raggiunto entrambe le sue corteggiatrici. Inizialmente si è ricato in camerino da Alice Barisciani e poi da Carola Carpanelli. Discussioni a non finire, si legge. La prima si è detta convinta del fatto che Nicotera sceglierà la sua rivale alla fine. Invece, Carola ha dichiarato i suoi sentimenti. La Carpanelli, che si è ritrovata nella bufera nel corso delle recenti puntate del show di Canale 5, ha scritto per il tronista una lettera. Ebbene, Carola a Uedì ha ammesso di amare Federico. A leggere la lettera ci ha pensato proprio la conduttrice. Che sin dall'inizio ha spronato la corteggiatrice a lasciarsi andare. Non solo. La padrona di casa ha cercato sempre di comprenderla e di, tradurre, i suoi gesti. Ultimamente, però, la conduttrice era apparsa delusa e un po' dubbiosa. La Carpanelli in studio non ha trattenuto le lacrime per le sue stesse parole e Nicotera ha preferito ballare con lei. Alice, però, non ha preso bene la decisione presa dal tronista. Tanto che è scoppiata a piangere. Ci ha pensato Gianni Sperti a consolarla. Abbracciandola. La reazione, invece, di Federico è stata positiva. Nicotera si è detta contento di aver sentito finalmente queste parole da parte di Carola. E dopo tanta attesa ha annunciato di essere pronto alla scelta. Grazie a tutti.